FZ-G1 È una macchina dotata di processore Core i5 di Intel, 4 GB di RAM, hard disk e SSD a scelta tra 128 e 256 GB. È una macchina dotata sulla parte superiore di uno slot configurabile in fase di ordine dove è possibile andare a inserire dei device opzionali quali un lettore barcode bidimensionale, una porta seriale oppure una porta Ethernet cablata RJ45, una porta USB o uno slot microSD. Il cliente può scegliere alternativamente tra queste opzioni in fase di ordine. È presente una ventola nella parte posteriore. È una ventola che garantisce comunque il grado di resistenza IP65, ovvero può lavorare anche inserita a bagno nell'acqua piuttosto che con della polvere o della sabbia. Il liquido o piuttosto che la polvere non arriva comunque all'interno della macchina o a contatto con la motherboard perché la ventola è totalmente sigillata. Nella parte posteriore può essere montato un lettore smart card a sbalzo su questo sportello. È presente anche la batteria standard a 6 celle che è possibile rimuovere a cura dell'utente, sostituire ed è possibile sostituirla con una batteria anche di maggior capacità.